Se la pensi riferita a te, mi sembra che tu hai scelto molto bene, perché insomma, no, è successo. Però io ho la possibilità di tornare indietro, io mi posso cura rapina pizzeria fra dieci anni. E ci stai pensando? No, non lo so, vivo molto alla giornata, so che la vita è fatta di tante cose impreviste, però io ho la possibilità di tornare indietro. Tutti noi siamo stati bambini e magari tanti di quei bambini che oggi sono degli uomini sbagliati hanno subito qualcosa nella vita, quindi per me quello è Ciro. Poi rispetto alla sua immortalità arriverà sicuramente un giorno in cui o io o lui moriremo davvero e ci separeremo. E Piano B, c'è già che è la pizzeria. La pizzeria, a Mergellina. Ma se ti sente servirlo, scusa. Lui me lo consigliava. Toni mi diceva sempre, oh aiua, rapitevi una pizzeria. Questo lavoro è troppo duro, apritevi una pizzeria.